Quanto è importante il mindset? Si sente spesso parlare, soprattutto negli ultimi tempi, quanto sia importantissimo il mindset, avere la giusta mentalità. E oggi voglio raccontarti la storia di due imprenditori, o meglio la storia di uno, perché l'altra non lo conosco. Comunque, sono due imprenditori che hanno aperto, nella mia zona, preferisco non fare il nome dell'azienda, in ogni caso, due attività molto molto simili. Una di queste ha un fatturato anno esagerato, si avvicina al miliardo di euro, circa 960 milioni. Quindi cifre molto molto importanti. L'altro suo, chiamiamolo concorrente, ne fattura meno di uno. E qual è il punto? Entrambi sono aziende che comunque lavorano bene, hanno clienti soddisfatti, semplicemente hanno un volume esageratamente diverso. Il punto è che circa 30 anni fa, quando sono partiti, erano uguali. E quindi cosa ha portato uno di due imprenditori a creare un'azienda da un miliardo di euro quasi, e l'altro a restare un'azienda tuttosommato piccola, perlomeno confrontata all'altro, quando entrambi sono partiti allo stesso modo, con le stesse possibilità, in un mercato che era oggettivamente ancora vergine. E a sentire la storia, se così possiamo raccontare, di questo imprenditore che ha raggiunto questi numeri, è stato proprio la mentalità. Nel senso che lui si è sempre domandato come poteva crescere, come poteva diventare un leader mondiale, come poteva vendere in tutto il mondo, come poteva crescere, come poteva strutturarsi per crescere sempre e sempre di più. Al contrario, non ho avuto modo ovviamente di confrontarmi, ma mi è parso di capire che l'altra persona invece si accontentava di avere la sua azienda che gli portava a casa, tutto sommato, dei buoni soldi e non aveva altre ambizioni. E da qui, diciamo che è partito il ragionamento riguardo al mindset. Perché se due persone che avevano le stesse opportunità, o comunque molto simili, hanno ottenuto risultati così tanto diversi, praticamente mille volte superiori, è davvero così importante nell'ambito imprenditoriale avere il giusto mindset? La risposta ovviamente non la so. Posso dire quello che è la mia opinione, ovvero assolutamente sì. Perché esattamente come questi due imprenditori, avendo due obiettivi diversi, due visioni diverse, hanno compiuto azioni diverse, è esattamente quello che succede anche in piccolo, o in scala anche più grande, a qualunque tipo di imprenditore e libero professionista. Quindi ciò che noi abbiamo in mente, ciò che noi vogliamo fare, guiderà le nostre azioni. E di conseguenza ci porterà risultati totalmente diversi. E questa è una cosa, sotto un certo punto di vista, veramente fantastica. E quando si parla di mindset, ovviamente si affronta una tematica davvero ampia. Io la sto studiando in questi ultimi anni, però non sono assolutamente un professionista. Ma è interessante come la nostra mentalità davvero ci porta a compiere determinate azioni, o a farci frenare da alcune paure. Ad esempio, molti hanno paura del giudizio degli altri, e di conseguenza evitano di mettersi in mostra, cosa che in alcuni casi è un passo necessario per riuscire a raggiungere gli obiettivi che hanno in mente, e rimandano per mesi, per anni. Questo ad esempio è successo anche a me con le mie pillole di business via video. Ho rimandato un anno e mezzo prima di iniziare a fare i video, perché avevo effettivamente paura, quindi una parte di me mi frenava. E per riassumere, possiamo quasi concludere come il fatto che il nostro mindset sia ciò che effettivamente ci guida e ci porta al raggiungimento di determinati risultati. Le nostre paure ci freneranno, le nostre ambizioni ci spingeranno in una direzione, i nostri sogni in un altro, una parte di noi che non voglia di far fatica, tenderà a frenarci, a portarci in un'altra direzione ancora, eccetera, eccetera, eccetera. E la somma di queste forze praticamente guida la nostra direzione. Allo stesso tempo ci porterà a, ad esempio, studiare, formarci sulle competenze di cui abbiamo bisogno se vogliamo crescere, ci aiuterà a definire degli obiettivi e se siamo bravi, una volta che abbiamo definito l'obiettivo, dobbiamo anche capire come fare per realizzarlo. Quindi abbiamo bisogno, ad esempio, di creare un team di persone in gamba che ci sostenga e ci accompagni durante tutto il nostro tragitto. Ora, le cose possono effettivamente essere veramente infinite, però ripensando a quell'imprenditore che ha creato un'azienda da un miliardo di dollari, ci rendiamo conto che le azioni che lui ha fatto sono necessariamente diverse da quelle che ha fatto un migliore. Ora, questo non significa che uno abbia fatto una scelta migliore rispetto ad un altro perché magari quello che fa un migliore vive molto meglio rispetto a questo che è un colosso. Però il punto non è quello, il punto è qual è il tuo obiettivo, dove vuoi andare? Perché è in base a quello che dovresti cercare di lavorare su te stesso per importi di svolgere le giustazioni per ottenere quel determinato risultato. Questo è un argomento che a me affascina tantissimo, lo ritengo molto importante e oggi niente, volevo solo farti riflettere un po' su questo. Quindi cerca di capire tu come ragioni, dove vorresti andare e effettivamente se stai facendo le azioni giuste per andare in quella direzione o se una parte di te, come è successo con me, come succede tutto ora, credo che più o meno succeda a tutti, in modo più o meno forte, sta cercando di rallentarci e riflettici perché è molto molto importante. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, guarda la vita di persone che hanno ottenuto i risultati che tu vorresti ottenere. Ti renderei conto che lui fa azioni totalmente diverse rispetto a quelle che fai tu e probabilmente sono le azioni necessarie che anche tu dovrai fare per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Per cui valuta se effettivamente è una cosa che ti può stare bene o se dici no, io non sono disposto a pagare questo prezzo per arrivare lì. Questo è molto molto importante. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! 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 Ciao!